I Cinque Rioni di Faenza attendono con trepidazione di sapere dove la testa del fantoccio bruciato cadrà in Piazza del Popolo alla mezzanotte del 5 gennaio. Un evento beneaugurale e simbolico legato alla gara del Paglio del Niballo che si terrà il prossimo giugno. Durante la giornata del 5 nel cuore della città gli stand dei Cinque Rioni, quello rosso, giallo, verde, nero e il Durbecco, distribuiranno cibo e bevande ai partecipanti. Protagonista sarà però il Bissot, una sorta di rivisitazione del vin brulè che riscalderà gli animi in attesa del corteo e delle manifestazioni in costume che accompagneranno, dalla serata fino a mezzanotte, il fantoccio del Niballo nel centro della piazza. Qui, a mezzanotte, il vincitore della scorsa gara equestre incendierà il grande pupazzo, la cui testa, secondo la tradizione, cadrà in direzione del Rione che potrebbe essere il prossimo vincitore del Paglio Faentino.